la business academy è un percorso formativo dedicato ai partner di canale epson pensato per essere estremamente flessibile nella sua fruibilità grazie infatti alle nuove tecnologie alle nuove piattaforme siamo in grado di offrire ai nostri partner diverse tipologie di training siano essi video on demand webinar o corsi in aula